Tamiad è un ragazzo di 12 anni che nel 2018 ha intrapreso un'avventura per arrivare in Italia. Ha lasciato amici, parenti, insegnanti per andare alla scoperta di nuove opportunità. Quando è arrivato non aveva amici, nessuno a cui rivolgersi nei momenti di difficoltà. Poi ha incontrato noi. Si trova bene qui, in una scuola accogliente che è da sempre un luogo d'incontro tra diverse etnie. Abbiamo imparato a conoscere Tamiad. È una persona creativa, sempre pronta a socializzare. Dopo appena un anno in Italia sta scrivendo una storia che parla di un ragazzo muto e della sua prospettiva sul mondo. Tamiad ci ha raccontato una cosa che ci ha fatto riflettere. Ci ha raccontato che lui è abituato ad insulti e presi in giro. Ormai non ha la forza di reagire, ma nonostante questo ha sempre il sorriso. In un anno Tamiad si è impegnato e, dando il massimo, è riuscito ad ottenere grandi risultati, padroneggiando la nostra lingua che ora è anche la sua. Ormai non ha la forza di reagire, ma non ha la forza di reagire. Ormai non ha la forza di reagire.